Sto per andare a fare l'amaturité, l'amaturité, amaturité, bonjour, sono presa d'ansia? Oui, tu lo puoi notare, penso dal mio stato d'animo, bisogna mettere il profumo, ragazzi. That's my outfit, this is my outfit. Eh sì, ce l'ho da coi manzi perché non ho trovato altre scarpe decenti, vi giuro, vi giuro. Amaturité, l'amaturité, andiamo. Sono libera. Come avete visto alla clip precedente ho fatto l'esame, in realtà il giorno dell'esame io volevo registrare un vlog, volevo fare tutta la cosa carina, volevo portarvi con me, però in realtà poi ero presa magari dall'ansia, comunque avevo altro a cui pensare, volevo ripassare e me lo sono tolta alla mente, quindi ho fatto soltanto la clip iniziale e poi basta. Entro la fine del video vi dirò anche il voto che ho preso alla maturità, io ancora non l'ho letto però mi sa che già li hanno appesi i quadri, solo che ho letteralmente messo nelle chat archiviate tutte le chat tipo che riguardano scuola, perché non volevo spoilerato il voto, perché prima volevo fare un mio discorso e non volevo che questo discorso fosse influenzato dal voto finale. Prima di passare i miei pensieri riguardo al percorso scolastico eccetera, voglio raccontarvi come è andato il mio esame orale. Io sono arrivata a scuola verso le 8 e mezzo, se non sbaglio 8 e 20, ero la seconda interrogata del primo giorno degli esami. Il primo giorno degli esami orali è stato il 28, la mia classe è stata sorteggiata per prima e la lettera che è stata sorteggiata è stata la G del cognome. C'era soltanto una mia amica prima di me e dopo c'ero io, quindi ero la seconda interrogata. Voi potete capire un po' il panico, anche se poi devo dire che si è rivelata la cosa migliore dell'universo perché io già dal 28 giugno ero in vacanza, avevo completato tutto, mentre ci sono alcuni miei compagni che lo hanno oggi, sono gli ultimi e poi la classe che è stata sorteggiata come seconda finirà verso l'8 luglio. Mi ritengo molto fortunata di essere finita il 28 giugno, mi ricordo. Appena abbiamo scoperto io e le mie amiche che eravamo in quel giorno, alcune mie amiche che eravamo in quel giorno, ci siamo chiamate tipo un po' impanicate, io poi ridevo tipo isterica, capito? Era tipo una risata isterica perché dicevo ok cavolo. Poi essendo che non sono sempre stata proprio super 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 costante, soprattutto con alcune materie, mi sono un po' messa a paura, ho detto ma vuoi vedere che ora facciamo danni, io devo studiare tutto insieme? Alla fine mi sono un po' organizzata, mi sono divisa le cose nei giorni, anche se poi il grosso l'ho fatto tutto negli ultimi due giorni, in pratica dove mi sono messa davvero seria, seria, seria per portare a termine questo esame. Chiaramente avevo degli argomenti preferiti, degli argomenti che mi piacevano di più. Sapevo un po' di tutto, devo essere onesta, ho ripassato tutto, soprattutto le materie tipo italiano e latino, ho ripassato un po' tutto, anche filosofia. Però magari c'era quell'autore che mi piaceva di più e quindi in qualche modo mi sono fatta tantissimi collegamenti nella mia testa per parlare degli autori che preferivo. Ma torniamo indietro, quindi arrivo lì, arrivo alle otto e mezzo, entra questa mia compagna verso le nove meno dieci, così verso le nove, entra, fa la sua interrogazione che le è andata benissimo, benissimo. Dopodiché esce lei ed entro io. Io per fortuna avevo Federica con me, che è una delle mie migliori amiche, andremo poi insieme a Zante, nei prossimi vlog la vedrete, ma già l'avete vista nei vlog della Puglia, in un sacco di vlog. C'era Federica alla con me, quindi mi sono messa a scherzare, poi c'erano anche altre compagne, altre mie amiche, quindi ci sono messa a scherzare, io non ero più tanto impanicata. Vi giuro, entro, mi siedo come se io stessi parlando con un gruppo di amici, ma ve lo giuro, cioè non mi sentivo per niente di star facendo l'esame, non mi sentivo agitata, parlavo tranquillamente. Ho iniziato con una frase di Seneca, perché non sapesse Seneca un autore latino, e quindi parlando di Seneca, del suo concetto e la vita eccetera, mi sono riallacciata, essendo che Seneca è stato ucciso, ci è stato fatto uccidere a causa di una congiura. Poi mi sono riallacciata a Socrate, Socrate appunto era stato condannato a morte, da Socrate mi sono collegata a Nietzsche, da Nietzsche mi sono collegata a Gabriele D'Annunzio, a Gabriele D'Annunzio mi sono collegata a Storia, con la conquista di fiume, sempre da Nietzsche mi sono collegata ad Arte, con di Brooke, poi sempre per richiamare gli intellettuali che sono stati uccisi al potere, ho parlato di Galileo Galilei che è stato messo a tacere dal potere, quindi mi sono collegata a fisica e matematica. Insomma, ho parlato abbastanza bene, mi sono collegata abbastanza bene, ma devo dire che i miei professori secondo me ci hanno aiutato, cioè non hanno fatto domande particolari, poi essendo che erano tutti interni, tra nel Presidente, voglio dire che era esterno, e sapevano quali erano i nostri punti deboli, capito? Ad esempio il mio punto debole è matematica e fisica, e la professoressa conoscendomi da tre anni, sapeva che non poteva farmi domande scomode, perché altrimenti aveva fatto una brutta figura, e quindi non me l'ha fatta ad esempio, oppure la mia professoressa italiana magari mi ha fatto domande inerente alle cose proprio che avevamo ripetute e ripetute in classe, quindi devo dire che ci hanno aiutato secondo me, poi sono stati, almeno per me, io non ho avuto domande scomode, non ho avuto domande particolarmente tipo, chissà perché mi ha fatto questa domanda, no, la Presidentessa, non so se sta guardando questo video, un giorno magari lo guarderà, io ti giuro, io le giuro, la chiaro mocissimo, è fantastica, non sto facendo questa cosa per allecchinarmi nessuno, perché tanto i voti li hanno già messi, io sono uscita, quindi io non avrei nessun interesse a parlare bene di qualcuno che in realtà magari mi ha fatto un torto, ma io vi giuro, io dell'esame ho un ricordo complessivo top, ho finito di parlare di tutto, ho parlato pure del PCTO, molto brevemente in realtà, poi abbiamo pure parlato un attimo di quello che faccio su TikTok e YouTube, perché alcune mie professoresse lo sapevano, io ho raccontato della partita IVA, che ho iniziato a guadagnare con YouTube, quindi, boh, capito, è stata anche una cosa molto simpatica, poi me ne sono andata, me ne sono andata e da lì in poi ho un ricordo terribile della giornata, cioè io fino a lì stavo bene, però sentivo, tra noi ragazzi ci capiamo, che stava arrivando quel periodo del mese, me lo sentivo proprio, esco da lì, arriva quel periodo del mese, mi viene il ciclo nello stesso momento, vi giuro, e io sto malissimo il primo giorno, quindi sono stata tipo male tutto il giorno, quindi non ho percepito la libertà perché stavo malissimo, stavo tipo nel letto così, ah, sto morendo, così mi capirete probabilmente, comunque, quindi il mio esame secondo me è andato abbastanza bene, io mi sono seduta all'esame orale con 67 crediti, erano dati da 46 crediti dei tre anni, e poi da 14 più 7, che 14 era la prova di italiano, 7 era la prova di matematica, delle prove scritte per l'appunto, quindi sono arrivata già matura, sono arrivata già con 67, che mi potevo alzare, firmare e scappare, e poi, adesso vedremo, il massimo che possono darmi è 25, per, diciamo, tutta la cosa orale, e poi 5 punti bonus, dopo vedremo il voto, ma prima del voto, voglio dirvi, secondo me, questi 5 anni, cosa sono stati, io dando un voto ai 5 anni, nel mio percorso e il liceo, non voglio essere quella che ormai ha finito, quindi ricorda tutto bene, ricorda tutto bellissimo, perché è una finzione del cavolo, poi la gente non si sente capita, no, io do un 7 e mezzo complessivo a questi anni, perché? E' iniziato bene il percorso, voti buoni, avevo solo dei problemi con il latino, dopo di che c'è stato il covid, durante il covid, sono cambiati alcuni professori, ho iniziato a capire che matematica e fisica, non erano il mio forte, manco per il cavolo, che mi annoiava, proprio mettermi lì a studiare matematica e fisica, anche latino, sempre aggiungiamo, in un modo o nell'altro, sono sempre riuscita ad arrivare al 6, al 7, verso fine anno, poi riuscivo sempre a riprendermi, però comunque, ho capito che non era il mio forte, ci sono stati momenti in cui davvero, ho detto, io qua cambio scuola, davvero tanti, infatti secondo me, parere personale, io ho sbagliato scuola, io non dovevo andare a liceo scientifico, dovevo andare tipo ad un commerciale, qualcosa del genere, perché alcune materie, proprio non mi piaceva studiarle, non trovavo utilità nella mia vita, poi, chiaramente sono propensioni, sono gusti, per alcuni miei compagni invece, non aveva senso per dire studiare italiano, per me invece era molto più bello studiare italiano, rispetto ad altre materie, magari scientifica, anche chimica, a me non è mai piaciuta, però comunque l'ho sempre studiata, andiamo avanti. Quindi verso il terzo anno, comincio a capire, che forse, forse ho sbagliato scuola, così, proprio così, però, non ho mollato, perché ormai avevo fatto super amicizia, con alcune mie amiche, non me ne sarei andata mai nella vita, ce lo dicevo, lo dicevo, ma non me ne sarei andata mai nella vita, c'è stato il periodo della dad, un periodo osceno, terribile, bruttissimo, poi abbiamo fatto didattica alternata, che faceva non schifo, non schifo di più, schifo non si dice, faceva schifo, vi giuro, lo scempio, il terrore, la, orribile, neanche ci voglio pensare, mai più un periodo come questo, io piuttosto mi prendo il covid, ma vi giuro, non voglio più un periodo di dad, vi giuro, terribile, terribile, non ne parliamo più, arriva poi il quinto anno, che secondo me è stato l'anno più bello, ci siamo divertiti, abbiamo fatto amicizia per davvero, secondo me in quinto anno, perché le amicizie che abbiamo fatto in primo e secondo anno, poi noi siamo cambiati durante la dad, durante tipo due anni siamo cambiati, ci siamo rincontrati praticamente in quinto anno, cambiati, e poi secondo me abbiamo fatto amicizia lì, comunque abbiamo vissuto un po' di più il clima classe, ci siamo conosciuti più, e secondo me è stato un anno top, per fortuna anche a livello mentale siamo cresciuti un po' tutti, ad esempio in primis io ho dato meno importanza ai voti, in questo quinto anno, ma già dal quarto, già dal terzo probabilmente, per fortuna sono entrata nell'ottica che, ok studiare, però ho dato un peso alla scuola, importante nella mia vita, ma la mia autostima non si basava più sui voti che prendevo a scuola, e questa è una cosa molto importante che dovete fare tutti, trovate altri metodi per misurare la vostra autostima, per misurare la vostra bravura, ma non date il potere di misurare la vostra autostima, la vostra bravura a qualcun altro, cioè qualcun altro non vi può dire tu vali 7, perché quella persona non vi sta dicendo tu vali 7, quella persona vi sta dicendo tu nella mia materia vali 7, ma non è che nella vita tu vali 7, quindi dovete scegliere voi quanto valete, dovete dire sempre 100 raghi, perché siete le signorine, comunque andiamo avanti, quindi secondo me il quinto anno è stato il migliore, ci sono stati gli alti e bassi, però quindi questo periodo di covid, quindi secondo me per la scuola un 7 e mezzo ci basta e ci avanza, calcolate che quasi tutti i punti sono dati praticamente al quinto anno, perché gli altri poi terzo e quarto anno, terribili, terribili, lo scempio, la vergogna. Un po' mi mancheranno i miei compagnetti, devo essere onesta, infatti anche l'ultimo giorno in scuola molto emozionante, ho pianto tutte le foto, tutte le cose, le lezioni in classe, le risate, però sono felice onestamente di andarmene all'università, di andare a Milano, sono molto contenta, devo essere onesta, ma penso che si veda, penso che lo sappiate, lo dico sempre, mi mancherà quel clima lì, perché il clima classe, però comunque ci vedremo sempre, magari quando scendo, magari scendo intendo da Milano, alla Sicilia, poi comunque le mie amiche, ce le tutte erano tutte in classe con me, quindi ci rivedremo sicuro. Non è che queste persone le prendo e le metto a parte, quando le rincontrerò farò la stessa festa che ho fatto l'ultimo giorno in scuola, letteralmente, e non me lo toglie nessuno questo. Adesso passiamo ai voti. Io sono indecisa, se guardare adesso il voto che ho preso alla maturità, secondo me il mio voto va, da 87 a 93, secondo me è questo il range. Se dovessero mettermi meno, non ne ho fotte, se dovessero mettermi di più, sarei felice, ma solo per il fatto che, secondo me, il voto che mi mettono, non è tanto su quanto io ho studiato, ma quanto sono maturata nel corso degli anni, perché io vi giuro, magari studiavo di meno, magari non studiavo come studiavano le persone che avevano 10, ma io il rispetto l'ho sempre portato verso tutti i professori, tutti i professori portati così, anche quando c'erano dei momenti un po' strani in classe, io ho sempre portato il rispetto, perché comunque hanno una vita, sono persone, ci avranno i loro cavoli, non è che siano perfette, non è che sono delle figure statiche, hanno pure loro i loro problemi, quindi il rispetto sempre portato. Maturità penso di essere abbastanza matura a livello intellettuale, poi ho un lavoro, quindi spero che il voto, se sia superiore all'89, si è dato occhio dallo studio, ma anche dalla persona, cioè che abbiano valutato la mia persona come una persona matura effettivamente, capito? Non so come definirla sta cosa, però se è 85, io so comunque, o se è 84, se è 80, io so comunque di essere stata una persona matura per 5 anni, poi magari a livello di studio sono arrivata a 80, però a livello di maturità, di fierezza del mio percorso, ce l'ho tutta, ce l'ho tutta e nessuno me la può togliere, perché, vabbè, non entriamo nei dettagli, ma io davvero ho portato tutti così, anche nei peggiori momenti, io ho portato tutti così, tutti così, mi mettevano 5 così, mi mettevano 2 così, mi mettevano 9 così, identici, quindi spero che il voto sia tuo a quello, solo che il voto è c'è un cellulare, sto registrando col cellulare, vabbè, vediamo se la macchina fotografica mi regge due secondi, mentre leggo il voto, forse 93, che sarebbe il massimo che potevano mettermi, perché vi spiego, io avevo 67, quindi mettendomi 25, io arrivavo a 62, come orale, poi potevano mettermi 5 punti bonus, però il mio orale secondo me è stato buono, però tipo non da 25, perché ad esempio matematica e fisica, non è che sono forte, faccio un po' schifo, quindi secondo me era tipo da 23, quindi secondo me gli altri sono tutti punti bonus, forse ho preso 93, salve sono passati i giorni, non guardate assolutamente i miei capelli, e sì, il voto era 93, e io vi giuro me lo sentivo, ogni volta queste cose esigono dopo, nessuno ci crede, ma io avevo scritto il giorno prima di registrare questo video, nelle mie note dell'iPad, tipo nell'amico se dell'iPad, proprio secondo me 93, e mi ero fatta pure il calcolo, che mi portava a 93, ero sicura di prendere 93, però capito, è un voto abbastanza alto, quindi non volevo allarghermi troppo, per poi dover dire, ho preso meno del previsto, capito, però me lo sentivo, e nulla, questo è stato il mio voto alla maturità, secondo me è andata super bene, 93 penso fosse il massimo a cui potevo davvero aspirare, ve l'avevo detto, secondo me andavo da 87 a 93, quindi top, ringrazio i miei professori, ringrazio la mia famiglia, ringrazio tutti voi per aver visto questo video, ma da adesso è estate, io la prossima settimana parto per Zante, con Federica, basta scuola, basta tutto, poi da settembre c'è l'università, sto anche cercando casa, basta parlare di cose tipo scuola, voti, così, non fatevi mai influenzare dei voti, voi non siete ai voti, chi se ne frega dei voti, studiate per voi stessi, studiate le cose che vi piacciono, le cose che non vi piacciono, studiatele lo stesso, però non fatevi influenzare dei voti, avviamo!